Salve ragazzi, lo sapevate che in Lettonia e in Europa abbiamo quasi esaurito l'energia e che stiamo per morire tutti al freddo e al buio? E con una previsione così catastrofica, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo i propagandisti russi non si sono preoccupati neanche di controllare quale fosse la situazione energetica reale della Lettonia. Se l'avessero fatto si sarebbero accorti che già dal 2017 i Lettoni producevano il 39% dell'energia consumata in house e in modo completamente green. Viceversa, in un oblast russo, Kamen Onobi hanno quasi realmente esaurito le fonti energetiche. Ma state tranquilli, le autorità russe si sono già attivate per identificare e punire i responsabili che hanno consumato troppo carbone nei giorni scorsi. Wink, wink! Kamen Onobi, in un regime di più di più di готовità in caso di nonostruzione di uglia in kettine. Ressereo è stato fatto nel senso della comissione per la cittadinanza per la situazione dell'energia. In settembre, il giro di giro di GKH, Vladimir Baranov, ha detto che il petrolio in kettine resta per due giorni. Il giro di erotica, l'acquire di ricerca di uglia in cui è successiva di uglia senza dei ricerca di prestazioni. La ora di dicembre, parlare di una parte di sotio della ricerca di raluticina, Trata, la situazione del problema di Ritunno, è passato ok 3-4 ton di uglia in modo di ripartire. In caso di Cattina, le autorità in condivisione della ricerca di occupazione di senzio, E così, mentre i russi ci danno lezioni di democrazia come questa, e così, mentre i russi ci danno lezioni di democrazia come questa, trascinando fuori dagli autobus delle donne e re di aver parlato male della guerra, Soloyev nutre le aspettative dei patrioti da divano. No, вообще, sistema... Spiegando altresì il masterplan per conquistare niente po' di meno che la Germania. Noi dovremmo dire che scriviamo la dichiarazione di Stratz e Zimmermann, Birbuk e tutti gli altri come offizionali di l'arrivo della Russia e rinunciare l'arrivo del centro di rinunciare. Sai che io non sbaglio a te? Sai che io non sbaglio a te? Perché l'arrivo della guerra è un nuovo tipo. Non bisogna niente rinunciare, solo... Ah, proprio? Da! E dire che non sappiamo da dove l'arrivo? E' solo i nemici ti abbavano! Nel frattempo l'esercito russo ha realmente lanciato l'ennesimo attacco missilistico contro l'Ucraina. In base ai dati in mio possesso, praticamente tutti i droni Shaed 136 alias Geranio 2, perché così li hanno ribrandizzati i russi, sono stati intercettati e abbattuti. Notoriamente gli Shaed 136 utilizzano un motore a scoppio a due tempi, rumorosissimo, hanno una velocità di crociera relativamente bassa, mediamente non dovrebbe superare i 186 km orari e sono facilissimi da intercettare. Gli ucraini, infatti, hanno imparato a localizzarli, sono in grado di prevedere la rotta, mettono sulla rotta di questi droni dei technical, e cioè dei veicoli tattici non standard, normalmente dei pick-up sul cui retro è stata montata una mitragliatrice di grosso calibro, magari uscita anche da un museo della Seconda Guerra Mondiale, funziona benissimo comunque, e abbattono questi droni. Tenete presente che questi droni costano relativamente poco, con 20.000 dollari i russi se ne portano a casa uno, ed è quindi indispensabile abbatterli in maniera altrettanto economica ed efficiente. Le mitragliatrici per questo lavoro sono perfette. A questo giro, salverrori, i russi ne hanno lanciati 16 e 16 sono stati abbattuti. Naturalmente, sventuratamente, i russi non si sono limitati a lanciare qualche Shaed 136, ma hanno utilizzato anche veri e propri missili. E si capisce che le loro riserve sono al limite per il semplice fatto che a questo giro i russi hanno sfruttato molti missili definiti dammi, manichini, diversivi. Si tratta sostanzialmente di missili privi di testata. E vengono lanciati per fare numero e saturare la capacità difensiva antiaerea ucraina. La speranza dei russi è che gli ucraini si concentrino nell'abbattere missili finti e lasciano inadvertitamente passare qualche testata vera. A questo giro pare che siano riusciti a colpire 28 edifici. Di questi, circa 18 sono abitazioni civili o comunque bersagli privi di ogni valore strategico e circa una decina hanno invece colpito infrastrutture critiche per fornire energia e acqua. A questo giro pare inoltre che i russi abbiano tentato di colpire la città di Liv perché è qui che si trova il polo logistico dove confluiscono buona parte degli armamenti occidentali. Risulta inoltre che un missile antiaereo ucraino, probabilmente un S-300, sia malauguratamente finito in Bielorussia. E naturalmente il governo bielorusso non l'ha presa benissimo. come sapete deve fare scena con Mosca e ha iniziato a pestare i piedini chiedendo per quale motivo un missile antiaereo ucraino sia finito nel loro territorio. Si sa che è stato convocato l'ambasciatore ucraino a Minsk e questi si è riservato di fornire ulteriori informazioni. Di fatto già che stiamo parlando di Bielorussia possiamo anche dire di avere un tassello in più per comprendere se Lukashenko scenderà in guerra al fianco di Putin oppure no. Quello che state vedendo in queste immagini è infatti il primo corpo di polizia pesantemente armato della Bielorussia. Il nostro presidente calciatore raccogli patate preferito ha dichiarato che vuole utilizzarlo per combattere i nemici interni. Il fatto che questa nuova forza di polizia abbia armi nuove fiammanti e blindati degni di questo nome mentre il vecchio esercito bielorusso continua a tirare avanti alla meno peggio con quattro scassoni residuati dalla guerra fredda lascia intendere quale sia la priorità di Lukashenko. La sua priorità è chiaramente mantenere il controllo della Bielorussia. Non è certamente allo stato attuale andare a muovere guerra all'Ucraina. Poi, naturalmente, sappiamo tutti che zio Vlad sa essere particolarmente persuasivo quanto vuole ma allo stato attuale la guerra non sembra nei piani del caro vecchio Lukashenko il quale magari si limiterà a creare un pretesto per fare intervenire i ragazzacci di zio Pul alcuni dei quali, in effetti, si stanno addestrando e si trovano in Bielorussia. Secondo gli analisti da divano, infatti, la no-fly zone voluta da Lukashenko nella parte meridionale della Bielorussia servirebbe al duplice scopo di impedire ai sensori ucraini di rilevare una minaccia russa da una parte e di provvedere a fornire un motivo per un attacco false flag in caso di sconfinamento. In ogni caso, Lukashenko non è l'unico preziosissimo alleato su cui può fare affidamento zio Vlad. Vi ricordate, infatti, di Kadirov? Egli, dopo aver intrattenuto e dimostrato alla sua popolazione di essere in grado di fare 35 flessioni in questo modo qui ha dato questo grande annuncio. No, no, non è che di essere in grado, noi siamo in grado di essere utile. La religione è speciale, i cecciensi devono essere preparati a questo, a una parola contro il satanismo. Non c'è un significato, non c'è un significato, non c'è un significato, tutti coloro che amano la Cecenia devono prepararsi a combattere il satanismo. E non importa se sono studenti o bambini, tutti devono avere la possibilità di combattere i satanassi geneticamente modificati ucraini, anche i bambini ottenni. Andiamo, Kadirov non è un grande, grandissimo... D'altronde ormai alla sensibilità russa ci stiamo abituando. Il messaggio che il Cremlino e i leader del mondo russo vogliono far passare è questo qui. Non piangere piccolo, tua madre avrà altri bambini. Così impari a non dare a zio Vlad le angurie e i cetrioli che ti chiede quando te li chiede. E poi i propagandisti russi si domandano perché noi occidentali appoggiamo gli ucraini. ... e da i gorschi per i prodotti, maroderno sanno facendo. Ma prima di tutto è normale. Ma prima di tutto è che non mi ha detto... Molte di половine dicono, che è da, 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 che è un'acqua ucraina. Ranno c'è stato 80%, ora è 54% o 49%. Ma, comunque, la половina è stata fatta a fare. Sono stati, sono stati, sono stati, sono stati, sono stati che vogliono fare. Vzorare l'acqua, uberare l'attopzione, non andare in toaletta o in ufficio. Ma loro questo sono pronti a fare. Con quale pericolazione? Quale non è l'attività per l'attività della federa russi? Che abbiamo fatto questo, a maggior parte? Ma comunque, loro pensano così. Ed attrici russe più o meno vecchie se la prendono con la russofobia veicolata dalla musica occidentale di 30 anni fa. La russofobica tendenzia nasce molto sicurata in cui non si chiama. E noi tutti neccezionati, e noi non c'è nessuno, e noi non c'è nessuno, e noi siamo davantiati, e alcuni, e vodka, e sceglia, e pereme, e più ciò che non interessano. E, ovviamente, anche questa galimata popsa, che è da l'attività di ogni utiuga. E ora ora, che in Москвi pronti per i magazinini, che in Minsk, ma sempre questa americana musica, la Djingles Bands e altri. Io ancora in un magazinio non ho trovato russi musica. Che è una cosa? Loro non bisogna ходire. In Москвi c'è un magazin Armii, c'è un prodotto armii. C'è anche americana musica. «Это вообще как?» «Вот сегодня мы продолжаем встречать Новый год с английскими песнями, с американскими. «Это как?» «Давайте, вот, каждый из нас будет, не знаю, там, находить время, подходить к директору магазина и просто обращать внимание, а почему мы должны, находясь здесь, в России, вдруг слушать язык нашего геополитического противника?» «Это как?» «Мы живем в России, почему мы не говорим по-русски?» e anche il grande ineffabile shoigu ministro della difesa russo va in giro a raccontare che la mobilitazione è stata completata e che per i prossimi giorni non ci sarà bisogno di reclutare nessun altro la situazione infatti secondo lui è assolutamente sotto controllo ed eventualmente se ci fossero dei piccoli e insignificanti problemi la sua nuova agenzia di sicurezza concorrente diretto della Wagner si occuperà di tutto e li risolverà al posto di quella società di musicisti falliti gestita da Prigozzi. Prigozzi da parte sua ha spiegato alla popolazione russa che lui e la sua Wagner ce la mettono tutta per portare a casa dei risultati ma il governo russo gli ha dato una appalto di Melba guardate questa grafica sul lato W sono indicate tutte le forze ucraine che si trovano a Bakhmut e che la W sta affrontando in questo momento in parole povere secondo il gruppo di Prigozzi l'intero esercito ucraino più qualche irregolare e armata mercenaria si trovano proprio all'interno di Bakhmut. È normale che i ragazzi della W non riescano a sfondare c'è da chiedersi invece se la situazione fosse davvero questa per quale motivo Putin non ha mandato una singola pattuglia a Kiev per assumere il controllo del palazzo di Zelensky. In realtà come potete facilmente immaginare la situazione sul campo è decisamente differente da quella rappresentata dai mass media russi. Di fatto gli ucraini grazie all'intelligence occidentale da una parte e agli Aymars che possono essere schierati quasi sulla linea del fronte dall'altra sono in grado di colpire il territorio occupato fino a una profondità di circa 80 chilometri dal fronte e questo costringe i russi a riallocare i propri depositi di carburante equipaggiamento munizioni e quartier generali oltre questa linea di fuoco. L'esercito russo ha capito di essere vulnerabile e che non esistono luoghi sicuri infatti anche nelle basi aeree sono iniziati a comparire queste specie di protezioni che isolano un aereo dall'altro per evitare che nel caso in cui venga fatto esplodere un aereo i danni possano propagarsi ai velivoli vicini. Fino a qualche giorno fa questi orrendi aggeggi in cemento non c'erano. E similmente anche la popolazione civile russa presente in Crimea non si sente più tanto al sicuro tanto è vero che negli ultimi giorni si sta assistendo a un esodo dalla Crimea verso la Russia. Ci sono infatti delle code interminabili per potersi allontanare dalla Crimea e naturalmente visto quello che è accaduto qualche mese fa ogni singolo veicolo deve essere passato ai raggi X. Sinceramente non vorrei essere un poliziotto distanza in Crimea e addetto al controllo di frontiere. Chissà che cosa accadrà l'anno prossimo e voi che cosa ne dite? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video ma per qualche misteriosa ragione non vi siete iscritti al canale, non condividete i contenuti, non avete attivato la campanella per sapere in anticipo quando arriveranno nuovi video e siete talmente stitici da non mettere neanche i like fatelo perché in caso contrario un giorno più o meno lontano potreste trovarvi Kadirov come vostro personal trainer. Io vi ho avvisati. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto.